Infatti questa è l'antagonista del Memo E la Bentley invece? La Bentley è Volkswagen Era Rolls Royce era la solita cosa Rolls Royce era il marchio sportivo per Fiat e Lancia Lancia hanno dato un'impronta la Fiat è per tutti la Lancia è per chi vuole più la macchina più di rappresentanza la macchina che ci sta meglio più comoda la Fiat è la macchina più sportiva più corsaiola più giovanita poi sulle macchine sono le solite il motore è il solito i ammortizzatori sono le soliti cambiano un po' la libra il motore è il solito cambia la centralina dell'iniezione o il carburatore non farlo andare un po' meglio in strada normale farebbero un po' di più guarda chi si vede adesso ci vedo ancora per poco non 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 non